Maxi Blitz dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Agrigento. 25 arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti. E' stata l'operazione Il Capo dei Capi. Ecco gli arrestati ad Agrigento. Gaetano Vignera, 19 anni, Stefano Davide Burgio, 24 anni, Sergio Rotondo, 20 anni, Mario Alletto, 23 anni, Giulio Gambino, 53 anni, Gabriele Di Francesco, 22 anni, Marco Lamendola, 26 anni, Daniele Pirrone, 24 anni, Calogero Natalello, 34 anni, Alfonso Sorrentino, 19 anni e Donato Gaspare Asselta, 29 anni. Poi Francesco Lombardo, 21 anni, di Porto Empedocle e Salvatore Tutto lo Mondo, 24 anni, anche lui di Porto Empedocle. Poi Salvatore Vizzini, 24 anni, di Grotte. Poi a Palermo Luciano Spanò, 25 anni, Antonino Cottone, 27 anni, Massimiliano Di Grazia, 33 anni. Poi Carmelo Scilio, 34 anni, di Catania. Detenzione e spaccio di stupefacenti, marijuana, hashish, cocaina e anche droghe sintetiche. Tutto comprato all'ingrosso e poi venduto al dettaglio. Un traffico di roba da 500 grammi fino ad un chilo a settimana. Da Agrigento verso Villaseta e Porto Empedocle, poi anche Grotte e Villabate, in provincia di Palermo. Le indagini dei carabinieri, agli ordini del comandante Mario Di Julio e del capitano Giuseppe Asti. Dal gennaio del 2007 fino a maggio del 2008, le dichiarazioni di alcuni tossicodipendenti, appostamenti e pedinamenti. Poi le telecamere nascoste, piazzate ad Agrigento, tra le vie Pirandello e Mazzini. Poi le intercettazioni, 40 utenze sotto controllo ed una in particolare. I carabinieri ascoltano lui, Daniele Pirrone, 24 anni, ritenuto il capo dei capi, il leader del gruppo. Ed anche il Maxi Blitz di oggi è stato intitolato il capo dei capi. Sì, perché Daniele Pirrone è intercettato e così i carabinieri scoprono che lui è innamorato della fiction televisiva il capo dei capi e la definisce una scuola per la criminalità. E a Pirrone piace anche il film American Gangster, che rievoca la storia vera di un boss del traffico di droga. Poi ancora Pirrone è intercettato e parla. Io la droga la so nascondere benissimo. Mi possono controllare l'automobile cento volte. Non la troveranno mai. Nel corso delle indagini coordinate dalla procura di Agrigento sono stati sequestrati quasi due chili di stupefacenti e sono stati arrestati dieci spacciatori in neflagranza di reato. Alcuni dei dieci sono tra gli stessi arrestati oggi e uno avrebbe continuato a spacciare nonostante fosse detenuto ai domiciliari. Il procuratore di Agrigento Renato Di Natale lancia un allarme. L'operazione di oggi ha un importante impatto sociale perché tra l'altro la droga sarebbe stata venduta anche a dei minorenni. Il rischio è che in futuro non si indaghi così come adesso perché viene corso un esodo, una emorragia di magistrati a cui al momento non si rimedia. È un crido d'allarme e di dolore perché noi vorremmo in sinergia con tutte le forze dell'ordine operare per migliorare la qualità della vita in Agrigento nel territorio della provincia di Agrigento eliminando varie forme di criminalità. Oggi siamo stati in grado di farlo, ancora qualche altra volta saremo ancora in grado di farlo. Se evidentemente andranno via i magistrati e non verranno rimpiazzati sarà evidentemente assai difficile continuare ad operare in tal senso. È un'attività incessante. Questa è soltanto la punta di diamanti di un'attività che viene fatta costantemente da parte dei carabinieri qui ad Agrigento ma è un po' in tutta la provincia da parte nostra ma un po' da parte di tutte le forze di polizia presenti sul territorio. E continuiamo a farlo. Ci dispiace ascoltare questo grido d'allarme dalla parte del procuratore che in parte rallenterà sicuramente queste attività non tanto in termini di indagine ma quanto nel tirar fuori poi arrivare in fondo all'operazione stessa. Quindi noi ci auguriamo che chi è competente sul problema possa quanto prima trovare quegli escamotaggi, quei sistemi perché questo non avvenga. Un'indagine tradizionale senza collaborazioni, senza nessun apporto esterno. Quindi classica intercettazione telefonica ambientale, attività di riscontro, pedinamenti, sequestri, ritardati arresti. Quindi una bella indagine anche per il complesso dell'attività svolta e il significato che queste catture hanno per una città come Agrigento.